Io parlo per me stesso. Prima di tutto la Roma è avversaria mia in campionato in Coppa Italia, non in competizioni europee e per questa ragione non ne ho visto la partita della Roma ieri, ne posso valutare, ne mi interessa se ha giocato bene, se ha giocato male. Mi interessa la Roma in campionato e la Roma in Coppa se noi e loro vinciamo la semifinale. In campionato la Roma sta bene, sta bene, sta molto bene, tanti risultati positivi. È un avversario che rispetto veramente perché ho detto sempre, anche quando la Roma era in difficoltà, se qualcuno ha detto che la Roma ha qualità di scudetto, sono sempre io a dirlo. L'ho detto l'anno scorso, l'ho detto quest'anno, quando la squadra è in difficoltà, sono chissà dei pochi che non hanno mai perso il rispetto e l'admirazione per un gruppo di giocatori fantastici, tanti giocatori della Roma che mi piacciono. Dopo mi sembra una società furba, una società furba che nel momento del mercato sa piangere, sa piangere e dopo sa dire di no, piange perché bisogna di un giocatore e non ha soldi per avere il giocatore, però dopo quando qualcuno vuole comprare uno dei suoi, sa dire di no. È una società molto molto intelligente e sta bene, sta bene, gioca bene e rispetto, rispetto veramente alla Roma per la sua qualità e per i suoi risultati. Grazie. Grazie.